è proprio buffo e come sarebbe buffo? sei buffo insomma è una bella storia è buffa sei un tipo buffo perché? per viaggiare come parlo? cosa? no è che sei sei buffo insomma è il modo come racconti le storie buffo come? che ci trovi di buffo? Tommy non hai capito lui vuole... no no aspettate è Casciutero sa quello che dici che dici? buffo come? come? che sei buffo tutto qua no spiegami fammi capire perché magari è colpa mia forse sono un po' rancoglionito buffo come? buffo come un pagliaccio ti ho diverto ti faccio ridere sto qua per divertirti come sarebbe buffo? buffo come? perché buffo? per come raccolti le storie capisci? no no io non capisco tu l'hai detto lo saprai no? tu hai detto che sono buffo ma com'è che sono buffo? che cazzo ci trovi di tanto buffo in me? dimmelo dimmi che c'è di buffo?